benvenuti nel fantastico mondo circo digitale io sono kane e lui è il mio assistente bubble proprio così e adesso iniziamo lo spettacolo sì oggi andiamo a recensire un cartone animato qualunque che non è proprio un cartone animato ma è un cartone animato vediamo se diventerà proprio un cartone animato ok oggi parleremo di una web serie non di un cartone animato vero e proprio di una web serie di animazione The Amazing Digital Circus proprio come degli universi The Amazing Digital Circus curiosità gli universi è una web serie di animazione creata da franco e francesco non io beh peccato ma sarebbe mia la serie di universi ma è di franco e francesco The Amazing Digital Circus la serie viene pubblicata sul canale youtube di Glitch il 13 ottome 2023 e lo potete guardarlo direttamente in italiano di The Amazing Digital Circus noto anche come Digital Circus o T.A.D.C. la serie è stata creata da Goose Awards ed è prodotta da Gritch Production Gritch Production me a Uvaraya gli piace questa ok ok la critica ha elogato la serie che ha accumulato 255 milioni di visualizzazioni molto molto dopo quattro mesi dall'uscita dell'episodio pilota quindi questo cartone ha fatto un enorme successo e speriamo che arriveranno altri episodi perché è iniziato nel 2023 ed è ancora in corso anche gli universi ancora in corso in streaming su youtube lo potete vederlo su youtube ok per ora ha una stagione e un episodio ma c'è qualcuno che lo doppia in italiano perché la serie di The Amazing Digital Circus non è italiano è australiano Stati Uniti non è italiano quindi loro hanno doppiato ma non so se usciranno il doppiaggio ufficiale di The Amazing Digital Circus perché è uscito il doppiaggio ufficiale solo per le serie di The Amazing Digital Circus dove sono i cartoni animati che fanno cose creato da Hornstop Italia se poi potete vedere le The Amazing Digital Circus a caso anche se non sono vabbè Mattia Mesi Digital Circus ci piace un sacco ma di che parla la serie? Comunque 25 minuti la serie parla di una adulta donna di 25 anni che rimane bloccata in un universo digitale a terma la chip chance in stile cartonimato dove assume un avatar di una giullare perché ha indossato un visore per realtà virtuale in compagnia di altri cinque umani bloccati lì da un tempo anche loro non hanno ricordi della vita precedente alla donna viene assegnato il nuovo nome Pony perché questo The Amazing Digital Circus mi fa impressioni prossimamente a fine marzo ci saranno i misteri di The Amazing Digital Circus perché chi lo sa poi a presentare questo circo di The Amazing Digital Circus oggi vabbè Kane questa dentiera che ha un'intelligenza artificiale che controlla il mondo digitale e fa svolgere i personaggi delle avventure per impedire loro di arrivare sull'orlo della pazzia i sei ora lottano per mantenere la loro sanità mentale nell'innaturale e colorato mondo digitale il tutto mentre Pony cerca una via di uscita quindi The Amazing Digital Circus è un cartone dove gli umani assumono la loro personalità in un circo digitale e verranno bloccati per sempre quindi la Gritch Productions grazie a questo creatore Gusevul che l'hanno creato al youtuber Gusevuls che la società ha contattato di creare un episodio pilota per una possibile nuova serie che non si sa se uscirà davvero la sete a metri di azito che gli piacciono a tutti originalmente si era proposto di creare la serie un stile animazione e stime giochi e computer degli anni 90 siccome Gusevuls ha un breakout dell'animazione 2D segnata a mano ma i creatori sono scemi gli animatori di Gritch Productions hanno dovuto adattare le sue opente di sollegegendo da Wikipedia il direttore generale di Gritch Productions Jasmine Young che è femmina ha dichiarato che non ci sono piani per rendere disponibile la serie su piattaforme stream diverse da YouTube ma per ora l'hanno messo su YouTube e ha fatto un enorme successo speriamo che Tiamese Digitalticus arriverà in TV va bene in televisione non su Netflix ma Tiamese Digitalticus è un cartone per adulti ma senza parolacce non si possono dire sappiamo che l'episodio pilota di Tiamese Digitalticus è diventato un video virale su YouTube e sì e mamma mia ragazzi poi hanno candidatura nel 2024 con la migliore immazione dei personaggi della Any Awards ha fatto solo un premio la serie ha diversi personaggi che questi personaggi di Tiamese Digitalticus sono tutti intrappolati sempre al mondo digitale cominciamo da Kane Kane è un presentatore del circo che lui da un'intelligenza artificiale creata per controllare gli umani poi ho visto la vera storia di Kane ma in verità non è accaduto perché sono cartoni fatti dal compiere 2D ok Kane è un'intelligenza artificiale creata per controllare gli umani ha una bocca che funge da testa con gli occhi dentro soffre di elettroconomia avendo un occhio azzurro e uno verde sembra Bob dei Minion questo presentatore mi piace assieme al suo assistente Babble che ricorda il cartegnaccio di Super Mario ed è anche amico e però vabbè Babble è anche uno chef che prepara degli manicaretti agli altri e poi c'è Pomni Pomni che è la protagonista della serie che è una donna di 25 anni che è il suo avatar un giullare poi c'è Ragata Ragata è una bambola di pezza che cerca di mantenere un aggiornamento ottimista nonostante la sua tragica situazione poi c'è Jazz un coniglio viola meno effeghista e narcista divertente e sarcastico che adora fare gli spetti alti personaggi soprattutto a Gang e Kilger che poi è troppo tosto questo Jazz poi c'è Gangol che è un timido nastro umanoide che indossa fragili maschili da comedia e da tragedia che dimostrano il suo stato d'animo ma non so perché è triste che tranne nella sigla e nel finale vabbè ma è sempre triste non so se è maschio o è femmina boh ma a me mi sembra che è una femmina Gangol ok poi c'è Zubol un irritabile giocatore a mescolare e abbinare una forma veramente unanoide perché è il suo sesso vabbè perché lei è una femmina Zubol lei è proprio un poi c'è Kinger Kinger è il mio personaggio preferito di Tiamese Digitarsir così lo ammetto lui ha paura di tutto ed è un re degli scacchi umanoide che è rimasto nel trapolato in ciclo più a lungo degli altri umani portando vicino la follia beh speriamo che Kinger non diventerà un glitch perché è il primo il terzo ma è sempre rimasto così poi non dico che Queeny e gli altri sono comparsi sono comparsi in altre storie quindi l'altro vabbè e c'è anche il clown il clown Kaufmo che è diventato un glitch perché non c'è nessuna via d'uscita e ha molta paura capito? Tiamese Digitarsircurs ha fatto un milione di visualizzazioni ma cento milioni di visualizzazioni in due settimane in un mese che in verità è solo il primo e unico episodio a rimanere perché è un episodio pilota di Tiamese Digitarsircurs lo conoscono tutti Tiamese Digitarsircurs? sì lo conoscono proprio tutti tutti anche quelli degli universi e un giorno i primi a comparire dei personaggi di Tiamese Digitarsircurs compariranno alla fine degli universi due non voglio fare spoiler ok? il voto di Tiamese Digitarsircurs è un 8,7 su 10 è un bel cartone mi piace ha molto Kinger è davvero simpatico e anche tutti gli altri personaggi di Tiamese Digitarsircurs non sono un granché è un bel cartone animato e speriamo che uscirà anche un secondo episodio della serie perché è solo un episodio un episodio pilota di questo cartone divertente simpatico speriamo che ne farà altri e chissà se compariranno anche negli universi staremo a vedere per Tiamese in Digital Circus iscrivetevi al canale mettete più mi piace condividete e commentate e il circo si conclude qui alla prossima recensione ci sarà un altro cartone animato da recensire ma tesilone showtuno è il ritardo di puntate quindi lo faremo a caso ma parlando dei cartoni animati le nuove puntate arriveranno presto forse vediamo benvenuti a Tiamese Digital Circus daun делать daun 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 grazie a tutti